La giuria del diciottesimo premio Biella, letteratura e industria, presieduta da Pierfrancesco Gasparetto, ha comunicato i titoli dei cinque volumi finalisti. Sono i romanzi 108 metri I ragazzi che scalarono il futuro Giuseppe Borsalino Inox Ipotesi di una sconfitta Gli autori saranno presentati al pubblico il 14 ottobre nella sala biblioteca di Cittastudi Biella. Nel mese di novembre, sempre a Cittastudi, avverrà la presentazione del vincitore. Presidente del premio Paolo Piana Il premio Biella, letteratura e industria, è l'unico riconoscimento in Italia dedicato a romanzi o saggi capaci di cogliere le trasformazioni in atto dal punto di vista economico e sociale ed indagare i rapporti tra due mondi apparentemente distanti quello delle arti e quello dello sviluppo industriale Dalla redazione di Biella, grazie dell'attenzione, è tutto Grazie a tutti! Grazie a tutti!